Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi un video informativo, un video che non era previsto, un video sulla nuova espansione del nuovo DLC di Stellaris Federations. Il DLC costerà 19,99 ed aggiungerà parecchie cose, oltre ad aggiornare il gioco nella sua stabilità, aggiungerà, come vedete adesso qua dal trailer rilasciato dalla Paradox, la possibilità di creare delle federazioni. Era già possibile nel gioco creare delle, diciamo, alleanze, ma forse la parte delle alleanze della diplomazia era quella un po' più carente. Ebbene, con questa espansione, come adesso andiamo a vedere nella partita che ho iniziato, nella creazione degli imperi possiamo andare a creare, a settare, l'origine dell'impero. Le origini sono veramente tante, a partire dalla prosperosa unificazione, il meccanicista, bellissima questa, la Life Seeded, praticamente una civiltà che si è evoluta in un paradiso disegnato proprio per loro. L'inizio post-apocalittico, figo anche questo, che ne cambia proprio totalmente l'inizio. Quindi la prima cosa che introduce questa espansione è una sorta di background che determina cosa possiamo fare e cosa non possiamo fare. Questo è bellissimo, lo Shattered Ring si parte da un anello, un po' stile Halo Halo, ho detto anche. Insomma è una cosa ultra, ultra futuristica. hanno ovviamente dei requisiti, questi inizi. C'è anche questo inizio qui con un gateway dormiente che poi può rivelarsi un vantaggio o una minaccia. C'è anche l'albero della vita, una civiltà legata a un albero, insomma alla natura. Ce ne sono veramente tantissimi. Egemonia, c'è anche la colonia perduta, quindi noi partiamo praticamente da... vabbè, Doomsday è dopo un disastro, la Lost Colony invece si parte dopo un primo viaggio. E... ovviamente qua andiamo a selezionare le etiche come le altre volte e il tipo di autorità. Imperiale, mente alveare, intelligenza di macchina, insomma, e le varie norme. Abbiamo la possibilità di scegliere la voce del nostro consigliere. Abbiamo la selezione ovviamente del nome, la bandiera, la grafica delle navi e qui siamo tutto. E qua creiamo il nostro leader. Questa è la particolarità della creazione. Poi qua invece vediamo il pannello della federazione che vedete, la federazione permette di settare, questo è un video preso dalla Paradoxa, vedere il tipo di coesione e far salire la nostra federazione. Perché poi dobbiamo tenere in considerazione che avremo anche un tribunale, un tribunale sì, un consiglio, insomma, dove potremo allearci con altre... cioè più che altro potremo come le Nazioni Unite, l'Unione Europea, insomma, ricevere multe oppure unirci insieme ad altri. Potremmo, ecco, questo è molto interessante perché potremmo creare degli spazioporti. Qua ce ne sono alcuni che a me non piacciono, quelli troppo un po' così alieni. Avevamo già le megacorpo, le megastrutture, ancora possiamo fare dei megaporti, proprio il centro della nostra federazione. E' figo quello, figo quello, il fatto che comunque potremmo unirci, creare una federazione un po' alla stile Star Trek, oppure una federazione finalizzata al militare, oppure alla ricerca, quindi unirci alle forze tra più Nazioni. E cambiare anche le sorti dell'Universo. Qua sono tutte le varie politiche, culture, potremmo puntare appunto sulla ricerca, sul commercio, su appunto la guerra, o la ricerca, mettere insieme tante Nazioni, ricercare tecnologie, condividerle tra tutti e poi andare a dominare l'Universo. Quindi veramente, veramente figo. Ovviamente il gioco non è in italiano, ovviamente non supporterà la patch in italiano, ma i traduttori hanno già anticipato che si occuperanno della traduzione. Ovviamente hanno già anche anticipato che ci vorrà parecchio tempo, parecchie settimane se non mesi, perché il gioco appunto ha aggiunto un mega aggiornamento di stabilità, aggiunta di contenuti, oltre il DLC, che aggiunge una marea di testi e come in ogni patch Paradox dovrebbe andare a stravolgere completamente il gioco. Qua vediamo altre grafiche del trailer. Ebbene, questo è Federation, esce il 17 di marzo a 1999. Fatemi sapere cosa ne pensate. Alla prossima ragazzi, e ciao ciao!